Progetti di moda, design ecosostenibile, autoprodotti, un lavoro sia del cervello che delle mani, un vero e proprio valore ma anche bisogno esistenziale. Tutti i protagonisti dell'esposizione creativa ospitata da Expo Area, la prima ecostruttura in Italia dedicata esclusivamente alla Green Economy. Nata dai corsi di moda del polo universitario di Rimini e cresciuta divenendo un'azienda indipendente ed autonoma, Riduab è una realtà concreta che ha portato in scena il riuso nel campo della moda e del design. Dal 14 marzo al 13 aprile infatti è stato possibile osservare un grande lavoro di riciclo, un percorso iniziato con un'esplorazione a chilometro zero che è partita dal territorio di Rimini e della Romagna in cui Riduab è nata. Uno dei designer di spicco presentato durante la Kermess è stato Fethi Atacol che da un decennio trae nuove forme da oggetti e materiali recuperati. L'idea è quella di dare la possibilità a tutti, a tutte le persone che hanno piacere di sviluppare, conoscere, provare a mettersi in gioco per provare a realizzare alcuni oggetti con il riuso. Quindi non è necessario avere delle qualifiche particolari, è necessario avere voglia di metterci in gioco e poi dopo noi forniamo quello che è anche l'aiuto proprio materiale, pratico per poter fare e elaborare gli oggetti per arrivare alla realizzazione di questi oggetti. Quindi abbiamo degli assistenti per questo. La possibilità di mettersi a confronto con la manualità e con l'oggetto di riuso che viene normalmente buttato via e far capire concretamente che può diventare qualcos'altro.